Ho un flambo senza flambo? no, no! E' un flambo, il flambo è un flambo, non è un flambo, non è un flambo, non è un flambo. Vai! E' un flambo senza flambo... o no! Jest più o meno eccentrale, io e' un flambo, però... Sono più o meno eccentrato, io e' un grim, però... quando fate video avvisatemi quanto è bravo questo giovane Miranda hai ancora motore dentro ma ti conviene toglilo e vedi che accade così toglilo col motore si cabrerà sempre il motore serve solo a portartelo in quota una volta in quota poi è stabile con questo vento non è un po' Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Posso con i flash? Vedi che accade? Al 50. Vedi che accade? 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 prato prato benissimo ottimo ingresso bellissimo grande luigi